Approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla montagna Massimo Sertori, i criteri e le modalità per l'assegnazione di 3 milioni di euro a fondo perduto da investire nella manutenzione straordinaria e nel recupero dei terrazzamenti e dei muretti a secco. Il bando sarà pubblicato entro 30 giorni e la parte operativa sarà affidata alle comunità montane. I fondi già disponibili dal 2020 con un contributo fino al 50 per cento della spesa prevista dovranno essere investiti per il ripristino di terrazzamenti o muretti a secco in una condizione di dissesto, il recupero di quelli abbandonati da almeno 30 anni in vasi da vegetazione infestante, realizzazione ripristino di sistemi di convogliamento delle acque in prossimità delle colture e la sistemazione di sentieri o stradi interpoderali destinatari della misura e proprietari, conduttori o possessori delle superfici, imprese agricole, denti di diritto pubblico. Si tratta, spiega Sertori, di un primo segnale di attenzione verso questo settore che rappresenta la nostra identità. Se la risposta al BAMDO sarà positiva, come auspichiamo, non escludiamo di poter integrare ulteriormente la dotazione finanziaria.